Stefano Santinelli, jolly del gruppo Castello quando serve giochi in difesa, quando serve giochi a centro campo. Il tuo gruppo ha iniziato a capire come si gioca in eccellenza. 31 punti a 2 punti dalla prima, è un momento magico. Stiamo attraversando un bel momento, veniamo da una serie positiva di diverse gare, soprattutto interne, le ultime 6 partite abbiamo preso sempre 3 punti. Ci troviamo in una posizione di classifica molto buona, siamo a 2 punti dalla prima in classifica, però siamo 7 squadre tutte attaccate, quindi c'è ancora da lavorare se vogliamo rimanere in questa posizione. Domenica grande vittoria 3 a 0 contro l'Orvietana, ora c'è il big match contro la Narnese. Che dire, non poteva capitare un momento migliore? Sì, questo bello scontro viene in un momento nostro molto positivo, anche a livello mentale, perché stiamo facendo buoni risultati, però sappiamo di affrontare un'ottima squadra in un campo difficilissimo, quindi ci sarà da lavorare molto in settimana per affrontare questa difficile partita. Con un innesto importante, il bomber d'esperienza che forse mancava a questa squadra, Cipolla, nell'ultima fase di questa stagione vi può dare una mano, una grandissima mano? Sì, Cipolla lo conoscevamo che ha fatto la preparazione con noi quest'estate. La società è riuscita a piazzare questo colpo, per noi è un giocatore importantissimo, per noi è una ciliegina sulla torta, perché ci dà, oltre alla sua qualità, che ha anche esperienza, perché siamo comunque una squadra abbastanza giovane. Lui è un giocatore navigato, che ha fatto sempre il professionista, ci sa dare anche qualche bel consiglio. A questo punto il gruppo è un mix perfetto tra giocatori esperti, magari di categoria superiore, navigati, e giovani, rampanti, vogliosi di fare, vogliosi di crescere, di mettersi in mostra. Poi alla fine sono le due cose che fanno sì che una squadra sia una squadra vincente, Stefano. Sì, la squadra ora siamo diventati una squadra compatta, devo dire costruita piano piano, perché quest'estate siamo partiti con molti giovani e a mano a mano sono arrivati degli innesti, chi prima, chi dopo. Ora, secondo me, siamo nel momento migliore del campionato, con l'organico al completo, secondo me.